elias donati contro il jumper per eccellenza del campionato ovvero michel yeyup ci aspettiamo grandi voli per lui un caro saluto anche a luigi da milano non so cosa mi ha portato ma sarà sicuramente qualcosa di buonissimo di monterosso e salutiamo antonio bomba sull'esterno per busco ora palla in post per mario tartaglia prova a girarsi elegantemente da mano di nando gentile esposito dell'agnello e oscar schmidt bomba di fernandez solo cotto e la sua movenza il suo tiro e il suo canestro queste live sinceramente 5 minuti e 35 anni lucenna ora perdonati la bomba elias mi affo cerca lo spazio la recupera efi il diaro la freccia va a realizzare non è la nai per efi diaro la bomba solo fotone è entrato bangu josue ex utile barcellona passaggio perdonati passaggio creativo jonati per ilario simonetti bloccarsi il quintetto di pippo sidoti guduric da 3 realizza guduric per simonetti da 3 realizza ilario ora per bangu ora per simonetti ancora un po sbasso ilario si gira tira realizza fate gruppo nella passata stagione salutiamo ovviamente anche franco che da non mi dicono che ricollegato grande ilario nel frattempo bangu 9 minuti 8 secondi paulinus da 3 realizza guduric ribaltamento gioco a 3 di akite per sbloccarsi realizza dianai ora per jt paulinus ancora ancora la bomba in faccia il diaro non va il diaro mamma mia sembrava giorgia fino in fondo realizza ancora i vari simonetti passaggio per i vanai prova la bomba senza pensarci troppo solo se si gioca il post big john vecchia scuola fate per terra mario tartaglia si scivola bisogna asciugare il tangolo di gioco d'altra parte è una furia di dio spara 3 solo cotone fernandez per efidiaru la ruba molto bene miaffo che può schiacciare a due mani la perde ilario dall'altra parte trova attaccato il ferro pulito ottimo l'assist per miaffo e 58 sul cronometro fernandez assista l'americana per nicola ivanai si trova caruso e gli app intanto canestro subito lo speaker del pala calafiore indomito come se fosse una partita di campionato e efidiaru ruba anche questa di 2 51 attacca il basket school americanatissima per elias donati ancora per anni al volo stoppata a due mani di tartaglia ancora una rubata ancora efidiaru anni a 3 fernandez a 4 paulinus bellissima molto bene il basket school gioco a 3 la palla arriva fino a giù e c'è manu fernandez finta tutte finta fino in fondo da 2 che magia i partiti redel contro basket school debiti allo stretto che al momento sorride ampiamente ai reggini che stanno giocando veramente la partita impeccabile quando tantissimo la fisica e la difesa alta della formazione nero arancio continua a difendere si può ripartire ancora una freccia ancora efidiaru mamma mia salutiamo relativa trofeo sant'ambrogio in settimana bomba manu fernandez spegnata dalla sandoria carembù si può ripartire attacca leo di dio blocco di matteo mollica scarico per miaffo da 3 realizza bella tripla di joseph miaffo palleggio tanto bolelli ingarezzo e tiro per la panteria la pantera nera a un carico per miaffo cerca lo spazio per lo step back realizza 36 77 c'è se è il tutto solo barabangu supera abilmente l'avversario caruso di mora ancora per miaffo si gioca 9 20 bomba di caruso bravissimo l'argentino lo stesso anni anni fino in fondo anni anni ancora non esso più fallo solidone cassone quando entra sebi tira fuori il tablet per firmarlo attacca di dio la bomba di leo solo cotone realizza leo quel no gliela rubano ancora pucinotti serve nicolò 3 minuti e 25 al termine della seconda sei finale il brazo nato trofeo mario sant'ambrogio serve nicolò alzando la parabola non va a nicene si mola tira a 2 e realizza 92esimo punto per la nicenna i ragazzi non erano 45 a 92 tre minuti a giocare sebi nicolò e ovviamente proprio l'italia di calcio un caro pensiero per totò schillaci idolo per noi bambini che abbiamo vissuto i mondiali del 90 sgarlato la recupera di ht da campo a campo per goodrich goodrich finta doppia finta limite dei passi matteo pulito giocasse niente diventerebbe metto clean attacca mollica va su realizza matteo mollica la recupera ancora fa la canestro viola anni ucenna finta passaggio e fucinotti finta il resto tiro in faccia mollica non va un minuto e 9 realizza anni ucenna 46 forse non ti conosce no no aldo è garbatissimo si è garbato fin da subito fin dalla prima telegrona lo posso confermare io non come suo fratello no sto scherzando 7 secondi attacca sgarlato a 3 realizza bomba stato sgarlato 101 tutto il pubblico in piedi per la bomba del 2005 finisce così la festa dei caressi vero arancio 40 tutto il pubblico in che you Grazie a tutti.